siamo ad amsterdam nel celebre mercato dei fiori che galleggia quieto sul canale di single le prime luci del mattino riflettano scintille oro nel single e negli occhi di anna che volteggia tra i banchi portando con sé la brezza dei canali e il profumo dei fiori l'accordo marino in partenza e gli schizzi di pompelmo si placano al fascino del cuore fiorito di rosa turca fiori di roti loto e ilang ilanga muschi e ambroxam esaltano l'innocente bellezza di anna angelo di rara sensualità se ti piacciono i profumi raffinati le giardini e amicanti anna devi provarlo in fondo aprile e maggio sono i mesi migliori per la fioritura dei tulipani ore voir o come dicono ad amsterdam coetenda